buongiorno ragazzi oggi vi presento un kit molto interessante che ho acquistato da pochi giorni su amazon il kit in questione è il kit della make off questa è la confezione all'interno di questa confezione ci sono dei prodotti che servono per lavare proteggere e lubrificare la propria bicicletta in questo caso io lo userò per la mia mountain bike per la road rider st 540 adesso vi presento in carrellata i tre prodotti il primo prodotto all'interno di questa confezione è il bike leaner che è un flacone di un litro che serve per lavare e pulire in maniera fantastica la propria bicicletta rendendola come nuova assieme al prodotto c'è l'erogatore spray molto comodo il secondo prodotto è l'mio 94 che serve per proteggere le parti meccaniche della propria bicicletta da polvere e da sporco prevenendo anche la ruggine è un erogatore spray di 400 millilitri e assieme al prodotto c'è un beccuccio erogatore molto comodo per disperdere il meno possibile prodotto in giro ed infine il terzo prodotto è il wet lube che è un flaconcino di 50 millilitri che serve per lubrificare la trasmissione della propria bicicletta creando un velo di protezione dall'acqua e dalla polvere questo prodotto è consigliato soprattutto in questo periodo quindi in inverno per uscite superiore alle due ore quando ci pioggia e fango sempre dentro la confezione c'è l'adesivo della make off che io metterò sulla mia mountain bike perché io prodotti li ho testati sono molto validi quindi ve li consiglio sotto questo video vi allego il link in descrizione per andarli ad acquistare il prezzo che io l'ho acquistati è intorno ai 18 euro più 6 euro di spedizione è leggermente alto ma i prodotti sono molto validi e ve li riconsiglio adesso vi faccio di nuovo una carrellata dei prodotti questa è la confezione e questi sono i prodotti il bike calina per lavare l'emo 94 per proteggere e il wet lube da lubrificare ora vi auguro una buona giornata e vi invito a iscrivervi al mio canale salve ragazzi